Forse ad una svolta le indagini per l'atrocia delitto di Roma, la ragazza uccisa in un ufficio con decine di coltellate. Sentiamo. Il delitto di Via Poma, un giallo che per moltissimo tempo è stato il cold case per eccellenza della storia italiana. Stiamo parlando di una storia cominciata nell'estate del 1990, quella delle notti magiche, dei campionati del mondo di calcio, una storia che non è ancora finita. Questa è la storia del delitto di Via Poma.